No, abbiamo fatto oggi le votazioni, come sapete, della Presidente del Parlamento, del Vicepresidente, tra l'altro fra poco devo entrare perché sono ancora in atto, e poi il resto è continuato. In merito alla questione Vicepresidenza dei Patriotti? Credo che ci sia molto rumore, soprattutto da parte della stampa. All'interno del gruppo se ne parlavamo, la votazione è stata fatta, è stata ratificata, è stata accettata. Domani discuteremo di tutti i problemi all'interno del gruppo, tra cui anche questo, qualora fosse un problema estremamente sentito. Però cosa pensa della posizione francese, appunto, di quelli che non vedono di buon occhio la sua Vicepresidenza? Come ho detto prima, credo che ci sia molto rumore della stampa, ma all'interno del gruppo, io oggi ho passato tutta la giornata in aula, non se ne è parlato, quindi evidentemente c'è una percezione diversa, a seconda da dove ci si mette.